Ciao amiche e ciao amici, questo video per capire come farsi amare, quali sono le modalità migliori affinché gli altri possano amarci, possano coinvolgersi con noi. Ovviamente non le persone che non ci interessano, ma quelle che ci interessano. E volevo farti riflettere su una cosa come punto di partenza. Ti sei mai reso conto o resa conto che le persone che non ti interessano, quando una persona non ti interessa, è molto più facile che si coinvolga con te rispetto a una persona che ti interessa? Ora, questo capita frequentemente, non è più un fatto statistico, per cui uno dice, beh, è la casualità che porta a questo, perché altrimenti succederebbe in modo casuale. Invece succede con una certa sistematicità, soprattutto a molte persone. Allora, il primo punto su cui ti voglio far riflettere è proprio questo, che se capita più frequentemente che di te si coinvolgano le persone di cui non te ne importa niente, di cui che le snobbi pure, che con loro sei manifesti indifferenza, che non fai nulla di particolare, anzi sei proprio tranquillo, a tuo agio, insomma. E queste si coinvolgono. Mentre invece quelle a cui tieni, di cui sei coinvolto, di cui sei già innamorato o innamorata, a cui cerchi di avvicinarti, cerchi di farti vedere bello, bella, piacevole, interessante, insomma, lanci dei segnali, fai delle cose, queste non ti considerano, o ti considerano molto meno rispetto agli altri. Allora, il primo punto su cui voglio farti riflettere è proprio quello, cioè, se tu pensi che una persona si coinvolga con te per ciò che sei nella tua essenza, ti sbagli di grosso. Ti sbagli veramente di grosso, perché una persona si coinvolge con te per la maschera che porti, per come ti manifesti. Arrivare a capire la tua essenza, già non ci riuscirai tu da solo o da sola, è molto complesso, è un lavoro. Menchè meno gli altri. Quindi gli altri si coinvolgono con noi sulla base di quello che noi comunichiamo, non sulla base di quello di cui siamo, che siamo profondamente. E quindi significa che quando tu sei coinvolto con qualcuno, sei coinvolto con qualcuna, ti manifesti in modo sbagliato, ti manifesti in modo non attraente. E uno dice, ma cavolo, ma perché capita questo? Beh, è lo stesso discorso che capita, che capitava, non so, se hai fatto l'università o comunque sei andato a scuola, insomma. Il giorno dell'interrogazione, il giorno dell'esame, anche se prima ti eri preparato alla lezione, può darsi che magari ti sentivi bloccato, non ti venivano le parole. Chi deve parlare in pubblico magari riesce a farlo tranquillamente quando è da solo, o quando ha la prestazione, ha più difficoltà. E quindi si innestano dei meccanismi poi autoprescrittivi negativi, perché uno pensa, ah, non mi merito questa cosa, sono uno sfigato, una sfigata, sono sfortunato, sono sfortunata. E perché non siamo in armonia con la nostra parte emotiva? E quindi la nostra parte emotiva cerca di farci fallire lì dove logicamente vorremmo riuscire. Quindi se ci capita questo frequentemente, significa che abbiamo una parte emotiva che non è alleata con la nostra parte logica e preferisce farci fallire per beccarsi delle emozioni. E' ovvio che se ti facesse fallire con uno di cui non te ne frega un accidente, che cavolo di emozioni si prende? Non se ne ne frega neanche una. Però se ti fa fallire invece con quello o con quella che ti interessa, lì c'è un bel impulso di emozioni. Questo è il primo punto. Il secondo punto fondamentale per farsi amare, che comunque è collegato a questo, è quello di essere in grado di amare se stessi. Sembra una cazzata, però è la verità. E cosa vuol dire amare se stessi? Voi dici io mi amo, ma cosa vuol dire? Amare se stessi vuol dire fondamentalmente essere veramente in sintonia con le nostre parti interiori, non essere bisognosi, perché se io delego a qualcun altro la mia felicità o la mia felicità, dico se non riuscirò a conquistare Francesca piuttosto che Giovanna, Marzia, Giuseppina o che cavolo è, sarò infelice, beh dipenderà da queste qua se io sarò felice o meno. E quindi vuol dire che non amo me stesso, perché, come dire, divento dipendente. E nel momento in cui uno diventa dipendente, praticamente è molto difficile riuscire a raggiungere gli obiettivi anche sentimentali, perché nel momento in cui non ami te stesso, perdi la dignità, non hai la forza di agire, perché tanto ti svilisci. Quindi una cosa fondamentale è considerarsi importanti, importanti per se stessi, soprattutto valutare molto la dignità e pensare che se qualcuno o qualcuna non ti vuole, sarà lui a rimetterci, tu troverai comunque un'altra persona. Perché noi poi, quando ci coinvolgiamo su qualcuno, facciamo un'equazione strana, diciamo questa persona è l'unica persona sulla faccia della Terra, uno uguale tutti. Questa è l'equazione, la generalizzazione assurda che facciamo. Noi ci rendiamo conto che viviamo un pianeta sovrappopolato, dove ci sono 7 miliardi, 8 quanti sono adesso, non so, di persone. E tra queste persone, non so, ci saranno un sacco di persone che possono andare bene per noi, che possono interagire bene con noi, con le quali possiamo anche entrare in contatto, ovviamente, a meno che non abitiamo al Polo Nord, e se abiti al Polo Nord ti sposti e ti muovi un attimo, insomma. Cioè, non è che se abiti nel paesino, adesso non ce l'ho con... Nella Barbagia, al centro della Sardegna, dove ci sono solo le capre e le pecore, e beh, ti sposterai sulla costa, dove ci sono anche altre persone. Quindi devi anche fare delle azioni, devi anche socializzare. Se uno resta sempre in casa, non è che può pretendere che vengano a bussare la Polo, può anche capitare, però, diciamo, statisticamente, devi quindi socializzare. È molto importante per conoscere la persona giusta e non aggrapparti subito alla prima persona. Tu devi essere... Devi considerarti come selezionatore o come selezionatrice, no? Come quello affamato che beve qualunque cosa. Perché se tu sei affamato o sei assetato, e non è che aspetti la cosa giusta per te. Prendi un assetato, molto assetato, che esce dal deserto e trova una pozzanghere di acqua sporca che fa e se la beve. Non è che dice, no, io solo sono San Pellegrino ghiacciata, altrimenti, no, non bevo acqua. Mica fa questo discorso. No, si beve pure l'acqua putrida dello stagno, se proviene dal deserto super affamato, super assetato. E invece ne dobbiamo essere sempre belli idratati, pronti, per cui quando avremo la San Pellegrino ghiacciata, berremo, ma altrimenti non patiamo la sete, perché siamo sempre belli idratati. E questo è quello che dobbiamo riuscire a fare. Se non riusciamo a fare questo, non riusciremo mai a farci amare dagli altri. Perché chi non ama se stesso, è veramente poco probabile che possa trovare qualcuno che lo ami. Sì, trova qualcuno che poverà pena per lui, con passione. Magari qualche altro derelito o derelita con la quale condividere una parte di cammino. Però alla fine saranno sempre delle relazioni poco gratificanti, poco piacevoli. Quindi questi sono i due punti fondamentali che devi tenere presente, fondamentalissimi, se vuoi farti amare. Se riuscirai a calibrare questi due punti, e il terzo possono essere sicuramente le strategie di comunicazione, le strategie di seduzione. Una volta che hai dato la persona giusta, una volta che hai distacco dal risultato, devi anche comunicare, interagire con questa persona. E la cosa fondamentale in questi casi è capire quelle che sono le esigenze veramente emotive, profonde di questa persona, per poterle soddisfare, in modo tale che la persona possa veramente agganciarsi a te. Messa assieme a queste tre cose, in un tempo, diciamo, giusto, troverai sicuramente la persona che desideri. Se anche sai qual è la persona che desideri. Per voi qua si apre tutto un altro mondo. Nessun vento è favorevole per il marinare che non sa dove andare. Se uno non ha un'idea, la più palida idea, del tipo di vita che vorrebbe condurre sentimentale, beh, non può trovare... Cioè, qua bisogna anche avere le idee chiare. Chiarirsi con se stessi è anche una cosa fondamentale per riuscire a predirezionare le proprie energie. Altrimenti è come avere un esercito super forte e non sapere però che nemico combattere. Manco conoscere il nemico, per fare un esempio. Eh, come fai... Che te ne fai dell'esercito forte? Niente. E lo stesso discorso, se tu hai tante energie, tante consapevolezze, tante competenze, tante abilità, ma non sai che cavolo vuoi. Eh, beh, tante cose che non serviranno mai a niente. Per cui bisogna agire su tutti questi fronti. È un percorso che però dà sicuramente degli ottimi risultati. Bene, per questo video è tutto. Ti saluto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda nei commenti al video e io poi farò un video di risposta. Diciamo così. Questo servizio è completamente gratuito, ma valido solo per gli iscritti al canale. E se hai voglia di divulgare questo video sui tuoi social, Facebook, Twitter, quant'altro, mi fai un favore. Basta che clicchi sotto, condividi, e poi lo condividi dove vuoi. Ciao, al prossimo video.